Una petroliera si muove lentamente verso il mare aperto, mentre una moderna fregata militare scivola silenziosa nelle stesse acque. Ma cosa succede quando, in mezzo a questa apparente calma, la tecnologia fallisce e due navi si dirigono inesorabilmente verso uno scontro che sembra impossibile? Come può un gioiello della tecnologia navale diventare invisibile agli occhi e ai radar? Questo non è un racconto di fantasia, questa è la storia agghiacciante della Anoms Helge Ingstad. Preparatevi, perché stiamo per esplorare il mistero della fregata invisibile. Un piccolo dettaglio, Anoms Helge Ingstad, è veramente difficile da pronunciare e spesso mi si inceppa la lingua, onde evitare di rifare l'audio cento volte, la chiameremo la fregata. Il suo nome evoca forza, affidabilità, un gigante dei mari progettato per la vasta scala del commercio globale. Costruita in Spagna nel 2009, era una nave da guerra all'avanguardia con 137 persone a bordo, tra militari di carriera e reclute. Era lunga 133 metri e larga 16 metri. La sua propulsione consisteva in due motori diesel Bazzam Bravo da 4 MW ciascuno e una turbina a gas GE LM2500 da 21 MW. Era un sistema combinato progettato per potenza e manovrabilità. Il suo compito, pattugliare i mari, partecipare a esercitazioni NATO e addestrare i suoi equipaggi nelle complessità della navigazione moderna. A bordo, il ponte di comando era dotato di sistemi all'avanguardia, inclusi display multifunzionali per radar e carte elettroniche. Ma curiosamente, non era equipaggiata con registratori di dati di viaggio, i cosiddetti VDR, che avrebbero potuto fornire un quadro dettagliato degli eventi. Dall'altro lato, la sola TS, una moderna petroliera a doppio scafo, lunga quasi 250 metri e larga 44 metri, con una stazza lorda di 62.557 tonnellate. Costruita nel 2017 in Romania, era una nave di recente costruzione, dotata di un motore principale MAN e un timone a pala per una maggiore manovrabilità. A bordo, c'erano 24 persone. Stava lasciando il terminal di Sture carica di petrolio greggio, diretta verso il mare aperto. A bordo della sola TS, c'era anche un pilota esperto, incaricato di guidare la nave attraverso il fiordo, una prassi comune in aree complesse e ad alto traffico. Il palcoscenico era il Hieltefjord, un'area marittima strategica sotto il controllo del Servizio di traffico navale, VTS, di Fedje, un centro che monitora e organizza il traffico marittimo 24 ore su 24, per garantire la sicurezza. La visibilità quella notte era ottima. Alle 3 e 45 minuti, la sola TS segnalò via radio al VTS di Fedje la sua partenza. A bordo della fregata, intanto, si stava svolgendo un cambio di guardia. L'ufficiale di guardia uscente e il suo sostituto stavano completando la procedura di passaggio di consegne. L'ufficiale di guardia subentrante, un giovane con esperienza limitata ma da poco abilitato al comando, era a capo di un team composto prevalentemente da reclute e tirocinanti. La nave, che navigava a una velocità di 17-18 nodi, era in modalità di addestramento e l'attenzione si concentrava sulla posizione ottica, ovvero l'osservazione visiva e l'uso di strumenti ottici per la navigazione. Ma c'era un dettaglio cruciale, che avrebbe trasformato una notte ordinaria in un incubo. La fregata stava navigando con il suo sistema di identificazione automatica, AIS, in modalità passiva. Questo significa che la fregata era in grado di ricevere informazioni sulle altre navi, ma non trasmetteva i propri segnali. Di fatto, era invisibile ai sistemi che la maggior parte delle navi commerciali, inclusa la sola TS e lo stesso VTS di Fedje, utilizzava come fonte primaria di informazioni sul traffico. In più, i fari di coperta della sola TS, accesi per le operazioni di partenza per illuminare il ponte e permettere all'equipaggio di assicurare l'attrezzatura, proiettavano una luce gialla intensa. Questo si è rivelato un problema critico. Dal ponte della fregata era estremamente difficile distinguere le luci di navigazione della petroliera da quelle del terminal o da altre luci costiere. Il team di guardia della fregata, pur consapevole della presenza della petroliera, la percepiva erroneamente come un oggetto fisso sulla riva, un'estensione del terminale e non come una nave in movimento. Questo errore di percezione era alimentato da vari fattori, la stanchezza dell'equipaggio, la formazione in corso e una potenziale eccessiva fiducia nelle proprie capacità. Nonostante la copertura AIS fosse buona nell'area, il VTS si basava principalmente sui segnali AIS attivi per il monitoraggio. La mancanza di trasmissione della fregata e la scarsa attività di monitoraggio attivo da parte del VTS di Fegge hanno creato una zona cieca fatale. La fregata era diventata un fantasma. Mentre la sola TS proseguiva la sua manovra di partenza, manovrando lentamente e aumentando la velocità, si avvicinava sempre più alla fregata invisibile, il pilota della petroliera si rese conto che l'oggetto luminoso a prua non si stava muovendo come previsto e non sembrava dare la precedenza. Alle 3 e 57 minuti e 25 secondi, il pilota della sola TS, con crescente urgenza, chiese via radio alla fregata. Siete voi che vi avvicinate? La risposta dalla fregata, alle 4 e 6 secondi, fu concisa. Sì, siamo noi. Poi, il pilota della sola TS, con crescente urgenza, ordinò chiaramente. Dovete virare immediatamente a tribordo. La risposta della fregata fu agghiacciante. No, l'ufficiale di guardia della fregata, ancora convinto che l'oggetto luminoso fosse stazionario e che non ci fosse spazio sufficiente per passare tra esso e la riva, non comprese la gravità della situazione. Non aveva ancora percepito l'oggetto come una nave in movimento e non era pronto a virare a tribordo. Questa persistenza nella percezione errata, nota come bias di conferma, unita alla cecità al cambiamento, impedì di riconoscere il pericolo imminente. Il tempo si stava esaurendo. Alle 4 e 30 secondi, il comandante della sola TS ordinò fermare i motori e pochi secondi dopo, il pilota ordinò macchine indietro tutta. Manovre disperate, ma troppo tardi per avere un effetto significativo. Erano a un punto di non ritorno. Alle 4 e 1 minuto e 15 secondi, la fregata si scontrò violentemente con la petroliera sola TS. Il primo punto di contatto fu l'ancora di tribordo della sola TS e l'area appena davanti al deposito siluri di tribordo della fregata. L'impatto fu devastante per la fregata. La fregata subì danni estesi lungo il lato di tribordo per circa 46 metri. Una lacerazione enorme che causò un allagamento massiccio. Si verificarono la rottura della linea di tubazioni dell'acqua di mare, il tranciamento di diversi cavi elettrici e danni significativi al compartimento delle reclute e al deposito siluri. Sette membri dell'equipaggio della fregata riportarono ferite lievi, ma fortunatamente nessuno morì. La sola TS, pur danneggiata alla prua con l'ancora strappata e un piccolo foro nello scafo che non compromise la sua galleggiabilità, non ebbe feriti tra l'equipaggio. La fregata, gravemente compromessa nella sua stabilità, dovette essere evacuata. I 137 membri dell'equipaggio furono messi in salvo, anche se 10 rimasero a bordo per assistere alle operazioni iniziali e tentarono, in vano, di stabilizzare la nave. Mentre la fregata si inclinava lentamente, un'immagine straziante di una nave da guerra che si arrendeva al mare, i tentativi di salvarla si susseguirono per giorni, ma il destino era segnato. Nonostante gli sforzi, la fregata finì per arenarsi e affondare parzialmente, un epilogo amaro per una nave da guerra all'avanguardia. Le indagini condotte dal Comitato Norvegese per le investigazioni sugli incidenti hanno rivelato una serie di fattori operativi, tecnici e organizzativi che hanno reso possibile questa collisione. A bordo della fregata c'era una forte fiducia reciproca tra i membri del team, che però si è trasformata in un'eccessiva sicurezza. Si assumeva che gli altri stessero facendo tutto correttamente, portando a una minore vigilanza e una ridotta sensibilità ai segnali di pericolo. Questa fiducia acritica ha impedito al team del ponte di mettere in discussione la percezione errata dell'ufficiale di guardia, anche quando i segnali disponibili avrebbero dovuto indicare un pericolo. La Marina Norvegese aveva una prassi consolidata di navigare con l'AIS in modalità passiva in aree costiere, per ragioni di sicurezza militare e per mantenere la segretezza delle operazioni, ma questo creava un punto cieco critico per le navi civili, che dipendevano dall'AIS, per avere un quadro completo del traffico. Non c'erano misure compensative adeguate in atto, per garantire la sicurezza in queste condizioni. La tecnologia per ricevere AIS criptato era disponibile al VTS, ma mancavano procedure chiare. L'intensa illuminazione del ponte della sola TS, pur essendo prassi standard e necessaria per le operazioni di partenza, ha reso difficile per la fregata distinguere le luci di navigazione della petroliera dal rumore luminoso del terminal. Questo è un fattore che ha ingannato la percezione visiva del team di plancia della fregata. Nonostante le chiamate radio e i segnali luminosi dalla sola TS, il team della fregata non ha interpretato correttamente la situazione, convinto che la petroliera fosse un oggetto fermo o un blocco. La comunicazione tra il pilota della sola TS e l'ufficiale di guardia della fregata è stata insufficiente a correggere questa percezione errata in tempo utile. In sostanza, una serie di fallimenti nella comunicazione, nella percezione e nella gestione delle risorse del ponte, amplificati da carenze sistemiche, hanno trasformato una notte ordinaria in una catastrofe. Il disastro della fregata e della sola TS è stato un tragico monito. Non si è trattato di un singolo errore, ma di una complessa interazione di fattori. La fregata invisibile, la petroliera abbagliante, gli equipaggi stanchi e in addestramento e un sistema di monitoraggio del traffico che non ha colmato le lacune. La marina norvegese ha avviato numerose misure correttive, dalla revisione delle procedure di addestramento all'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza. Sono state introdotte raccomandazioni per migliorare la gestione delle ore di riposo, la selezione del personale medico e la collaborazione tra navi militari e civili. Ma la domanda rimane, quante altre navi invisibili navigano nei nostri mari, magari con sistemi di sicurezza disattivati per ragioni strategiche o semplicemente per negligenza? Questo incidente ci ricorda che la sicurezza marittima non è mai garantita solo dalla tecnologia avanzata. Dipende dalla vigilanza, dalla comunicazione e da una comprensione condivisa della realtà da parte di tutti coloro che sono a bordo e a terra. La fiducia eccessiva nei sistemi automatici e una cultura che non incoraggia il dubbio o la segnalazione di debolezze possono avere conseguenze catastrofiche. La tragedia della fregata invisibile ci urla la stessa verità. Ogni incidente è una lezione e ignorarla significa rischiare che la storia si ripeta. Solo attraverso un impegno costante verso la trasparenza, la formazione e la collaborazione internazionale potremo prevenire che altri giganti del mare si scontrino nell'oscurità. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.